Dalle leggende della musica ai miti dello sport, passando per le figure chiave della politica internazionale. Il Novecento visto con gli occhi di Gennaro Petrecca, questa volta nella sua veste di artista e non di galerista e critico d'arte. Presso lo spazio Arte Petrecca, in corso Marcelli 180 a Isernia, ha aperto ai battenti la mostra personale intitolata Icons. Un tributo ai protagonisti di un secolo che hanno fatto la storia e che continuano ad avere un peso rilevante sulla cultura contemporanea, come spiega lo stesso autore. Questi sono personaggi che, seppur deceduti da un punto di vista storico, rimangono vivi nella memoria delle persone che ne hanno ammirato in ogni caso il loro profilo artistico o politico. Quindi tre cantanti abbiamo, tre sportivi e tre personaggi politici che hanno segnato il Novecento. È l'inizio di un percorso che vorrei fare di queste icone del Novecento, che è stato un secolo breve ma così denso di avvenimenti sotto mille punti di vista, che merita di essere ricordato. Io lo faccio attraverso questi lavori che danno poi a molti la possibilità di tornare indietro nel tempo guardandoli. Personaggi del passato che sono tuttavia rappresentati con un linguaggio d'avanguardia e uno stile sotto il profilo artistico ancorato strettamente all'attualità. Con Icons di Gennaro Petrecca siamo di fronte a delle opere con un fascino e con una lettura visiva totalmente differente. Quindi ci distacchiamo da tutto quello che potrebbe essere un'icona tradizionale dall'arte medievale all'arte, possiamo dire, anche contemporanea. Però con questo tipo di arte di Gennaro, dove ovviamente lui è al passo con la società, con l'integrazione, quindi voler rappresentare anche quelle che sono le grandi immagini, i grandi personaggi che hanno comunque segnato la storia, fa sì che Gennaro li reinterpreta in maniera, con una chiave del tutto concettuale, ma soprattutto propria. Quindi hanno sicuramente un'identità e il filo conduttore di tutta questa mostra è appunto la pop art, che hanno segnato i più grandi artisti del Novecento, fino ad arrivare ovviamente artisti emergenti.